40 secondi alla via della seconda corsa, un confronto per femmine di 3 anni con poche somme vinte in carriera in cui la favorita è l'inquadrata Frida Kahlo, una aldeva di Alessandro Gocciadoro interpretata da Federico Esposito che ha sgambato bene e ha il debutto dopo prova di qualifica milanese. Le alternative Fauna Jet con Andrea Vitagliano, Faratrio con VP dell'Annunziata, poi Fatidic e Fezzasanna, le altre più attese in un confronto che vede al via 11 cavalle e che iniziano ad avviarsi verso il mezzo meccanico che inizia a muoversi. 11 al via, l'1 Felce, Florida, Matteo Legnani, 2 Frida Kahlo, Federico Esposito, 3 Forze Onore, GPD, Davide Cangiano, 4 Fender Bay, Luca Lovera, 5 Fauna Jet, Andrea Vitagliano, 6 Fatidic, Andrea Farolfi in seconda fila, 7 Forever Orso, Emanuele Pistone, 8 Fezzasanna, Lorenzo Talpo, 9 Fox Matley, Giacomo Sanseverino, 10 Faratrio, VP dell'Annunziata, 11 Frisia, MTT, Lorenzo Baldi. Autostart che ha raccolto le partecipanti lungo la curva di sinistra con cautela in seconda fila, Fezzasanna, e si va a partire con veloce Fatidic che dall'esterno dell'ala scavalca, fa una jet e si porta al comando. Fa una jet che scende seconda in corda mentre galoppa Frida Kahlo, numero 2 Frida Kahlo, squalificato. Poi di fuori Forza Onore, GPD, quindi Frisia, MTT, se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 15 e 1. Fatidic ha preso la testa dal 6 e ora guida nei confronti di Fauna Jet, poi Felce, Florida, di fuori Forza Onore, GPD, in corda Frisia, MTT, galoppa Forever Ors. Numero 7, Forever Ors, squalificato. Fatidic ha il comando nei confronti di Fauna Jet, poi Felce, Florida, di fuori Forza Onore, GPD, dopo 600 in 46 e 4. Prova ad andare a prendere una seconda pariglia Fezza San che precede Farah Trio. Il giro di corsa se ne va con Fatidic e Fauna Jet, 1 e 2, 1 e 1 e 4 per la metà gara. Fatidic che precede Fauna che sposta dalla seconda posizione alla corda e prova ad andare a destra, la leader però accelera. Allora Fauna Jet ritorna per un attimo in corda, il chilometro in 1,16 e 9. All'avanguardia Fatidic fa una jet che sbaglia, di fuori sempre Forza Onore, GPD, che sta stracorrendo all'esterno. In mezzo alla pista lo scatto di Farah Trio. Numero 9, Foxy Matley, squalificato. Dall'attacco di Forza Onore, GPD, che insiste con decisione all'esterno. Poi Fezza San in mezzo alla pista, Farah Trio. Farah Trio che si porta sulle prime e con ottimo parziale si porta accanto a Forza Onore, GPD. Si difende ancora in corda Fatidic, passa però Farah Trio all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Farah Trio che prende margine a Forza Onore, GPD e a Fezza San nel finale. Farah Trio che porta a casa il successo nei confronti di Forza Onore, GPD al terzo Fezza San. 31 e mezzo ad arrivare, 1,17 raguaglio cronometrico. Il successo di Farah Trio. Ancora una volta il team di VP dell'Annunziata e Paolo Leoni in gran forma nel periodo. Colori della Scuderia Trio. Il successo in bello stile con parziale finale tutto sommato discreto e soprattutto rispetto a quello dei rivali. Perché viene a largheggiare Farah Trio, corre molto bene al secondo posto. Forza Onore, GPD. Al terzo la regolare Fezza San. Grazie a tutti.